Un prestigioso riconoscimento in Spagna è stato dato al dentista grigentino Marco Argento, si tratta del premio nazionale spagnolo per la migliore ricerca scientifica nel campo dontoiatrico dal Consiglio General de Dentistas de Spagna per l'anno 2020. Il galà di premiazione è stato svolto qualche giorno fa, slittando di un anno a causa del Covid, nel salone dell'hotel Wellington di Madrid alla presenza delle maggiori autorità iberiche del settore, con un invitato d'onore, il past presidente della Federazione Dentale Internazionale, Gerard Seberg, che ha elogiato la ricerca svolta dall'agrigentino Marco Argento. A premiare il dentista grigentino è stato il presidente della Fondazione Dentale Spagnola, Francisco García Loreta. Il premio all'odontoiatra della città dei Templi è stato dato per la ricerca dal titolo Nuovo approccio nella modellazione del composito dentale nella pratica clinica attraverso una nuova congenzione in stratificazione. Pubblicata sulla più rappresentativa rivista iberica di odontoiatria, l'arroce agrigento è stato accompagnato alla cerimonia di Madrid da uno dei maggiori esponenti dell'Università Cattolica di Valencia, dove si è laureato il professor Ignazio Zarzosa Lopez, il dentista siciliano, e il primo odontoiatra italiano ad avere scritto il suo nome nell'albo d'oro del premio.